il Memor è uno scanner portatile adatto per tutte quelle situazioni in cui si ha necessità di gestire le commesse fuori sede ha un'ampia memoria per archiviare i dati è fornito con l'alimentatore e con il cavo mini usb quindi può essere collegato direttamente al computer ed è pronto all'uso può comunicare via wifi e bluetooth in gprs può interfacciarsi in rs232 via rete run vediamo la dimostrazione pratica ad esempio il caso classico in cui il tecnico fuori sede scannerizza la commessa e il tipo di intervento da fare e legge il proprio page in questo modo sul Memor è installato il sistema operativo windows mobile CE e il nostro applicativo per la gestione delle commesse e delle presenze GEST PRO mobile